Siamo partiti con le parallele asimmetriche, sono le atlete della Russia impegnate, la prima dovrebbe essere proprio la Svetlana Kliukina, esercizio bellissimo questo, affascinante. Sì, molto bene, sia la parte allo stagio basso con questi stall delle gambe unite, ma anche i salti, i volanti, con ripresa delle impugnature, doppio carpio di uscita.